Comoda tra l'altro sta cosa, vero? Comoda, sbragarsi, a volte c'è quella definizione, che non mi ricordo come si chiama, dell'uomo, come si dice, no, offensiva, l'uomo con le gambe aperte, in metro, c'è una definizione, non mi ricordo, che è un modo per dire, non stare così perché stai mostrando i gioielli e non è cosa carina, non è cosa buona e giusta, come avrebbe detto qualcuno. Allora, io non so da dove cominciare con te perché non sei tu che parleresti per ore, sono io che ti farei domande per ore, non è una sviolinata. Prima ti sentivo giù sulla tua presentazione e ero molto affascinato. Poi ti vorrei chiedere cosa fai con i pazienti, ma un po' me lo aspetto avendo avuto una formazione molto simile, anche se poi è andata a divergere su certe cose. E quindi la domanda è che cosa gli chiedo a Bernardo, però in verità lo so cosa chiederti perché ci sono un po' di cose meno incuriosite qui, ma anche negli altri libri. Spiegami un po' la simmetria degli opposti. In poche parole. Poche parole, accidenti. Cioè come te è venuta, come la usi in psicoterapia, perché è molto affascinante, ti dicevo anche in un commento sul libro, però io non ci riesco a usarla, mi sembra difficile. Poi tu per me hai detto qualcosa come, no è una questione di pratica, mettersi un attimo. Spiegami un po' tutto, cioè com'è nata, cos'è, come la usi. Ok. Allora, poche parole, non è facilissimo, ci proverò. Vabbè io vado. Puoi lasciare. Allora, dunque di base credo che tutto sia nato con gli aforismi, perché è stato un po', nel mio piccolo li considero un po' come i fringuelli di Darwin nel mio piccolo mondo. Cioè come sia possibile da una cosa piccola poter dedurre un sistema molto ampio, ok? Quindi da questi becchi diversi di fringuelli Darwin che capisce qual è la teoria dell'evoluzione. E diciamo che in modo un po' parallelo per me l'aforismo è una roba straordinaria. Cioè la domanda è come è possibile 5, 6, 10 parole producono un effetto stravolgente. Per me questo ogni volta mi domando veramente come è possibile, no? Pensa a un aforismo come quella di Paul Valery, che gli dice tutto comincia con un'interruzione. Cioè capisci? Non hai bisogno di altro. Allora è un po' come se vedi un quadro di Bansky, no? Non so se vi ricordate il crucifisso con i sacchi della spesa di Natale. Vedi un'immagine così e dici ok non ho bisogno di altro, è già chiaro, no? Ed entra come un dardo. Allora mi sono detto ma com'è possibile? Cioè cosa c'è l'aforisma per essere così incredibile in poche parole? E allora da lì ho iniziato un po' a leggere e non ho trovato tanto. Cioè si parla di una serie di elementi, però ho trovato informazioni anche abbastanza confuse, ok? Innanzitutto aforisma la usiamo molto più noi che in America ad esempio. Se tu in America quando sono andato a fare un convegno in America parlare di aforismi mi dicevo non sapevo neanche che esistesse l'aforisma. Ma in realtà è che si dice sentenza, butad, frizzo, cioè ci sono tanti sinonimi, ok? Ognuno con una sfumatura diversa. Quindi che cos'è l'aforisma? E indagando, secondo me ci sono sette elementi fondamentali che costruiscono un'aforisma. Uno di questi è la simmetria. Cioè ogni aforisma ha in sé per funzionare una simmetria. E le simmetrie che funzionano meglio negli aforismi sono le simmetrie di opposti. Cioè il fatto che tu possa all'interno di una stessa frase creare un contrasto, ad esempio, di Oscar Wilde che dice ogni uomo mente, ma dategli una maschera, sarà sincero. Quindi menzogna, sincerità. Simmetria, opposto. Un altro aforisma ancora è se vuoi pulire qualcosa devi sempre sporcare qualcos'altro. E possiamo andare avanti. In alcuni è veramente esplicito come in questi casi. In altre volte la simmetria, ad esempio, è fra ciò che normalmente viene percepito e ciò che l'aforisma sta dicendo. Ad esempio, una di madre Teresa di Calcutta che dice qual è il giorno più importante della mia vita? Oggi. Ok, perché? Fa effetto. Perché di solito le persone se li fermi per strada e domandi loro qual è il giorno più importante della tua vita, semmai ti dicono la laurea, sono sposato, mio figlio che è nato, quando mi sono fidanzato, cioè è sempre nel passato, e allora il passato è in contrapposizione per simmetria di opposti, la risposta dell'aforisma è oggi. Ah, questo è soltanto uno degli elementi, però è veramente un elemento cardine. E da lì ho iniziato a dire, ok, ma in realtà tutto ciò che ho studiato in ambito terapeutico rispetta questa simmetria di opposti, perché le tentate soluzioni e le soluzioni sono in opposizione simmetrica, se il problema è mantenuto dal parlare molto di un problema, la soluzione è smettere di parlare del problema. E andando avanti così ho detto cavolo, cioè non è una roba che viene applicata così per un machillage o per un vezzo mio personale, perché ok, mi sono messo a cercare le simmetrie, ma ci sono proprio le simmetrie nel rapporto fra problema e soluzione. E poi scopro che in realtà questa cosa qua è una branca fondamentale dello studio della scienza, in realtà poi della filosofia e che comunque il mondo è fatto di simmetrie. I pianeti sono simmetrici, le foglie sono simmetrici, cioè è tutto simmetrico, le regole matematiche sono simmetriche. Quindi ho scoperto che in realtà questo aspetto della simmetria, in particolar modo della simmetria degli opposti è un po' come se fosse il DNA della realtà. Andando su una cosa per esempio che ho letto qualche giorno fa su Nature, c'è quest'articolo in cui hanno visto come le persone che hanno il corpo più simmetrico e la simmetria nel corpo a livello proprio di misure ad esempio è correlata con la salute, quindi il più basso livello di mortalità ma anche di morbilità, cosa c'entra la simmetria del corpo, c'è una correlazione stretta e le persone più simmetriche ballano meglio, fanno dei balli più simmetrici e i balli più simmetrici acchiappano di più. Diciamo come è possibile? Che senso ha questo? Se non per il fatto che la simmetria è una delle regole basi della vita. Tant'è che appunto in questo articolo fanno questo esperimento e hanno visto che gli uomini sono molto più bravi a ballare delle donne e gli uomini simmetrici acchiappano di più degli uomini non simmetrici, come le donne simmetriche acchiappano di più delle donne non simmetriche e le donne che ballano in modo più simmetrico acchiappano di più di quelle donne che ballano in modo meno simmetrico e così l'uomo. E questo è spiegabile sempre utilizzando la teoria dell'evoluzione di Darwin perché in natura gli animali in cui l'accudimento è maggiormente femminile che maschile, è l'uomo che deve conquistare la donna utilizzando dei danze cerimoniali, quindi è molto più importante che l'uomo sape ballare bene, il compito della donna è selezionare bene, come seleziona? Con la simmetria. Tant'è che gli animali che hanno aspetti più simmetrici sono quelli che si accoppiano più facilmente. Il pavone che ha il numero di uccelli, mi pare si chiamano questi occhi, che sono più simmetrici e sono quelli che… ok. Allora è diventato poi un'illuminazione di nuovo, diciamo una piccola scheggia che in realtà stava rivelando qualcosa di molto più grande. Quindi quando sei con un paziente mi sembra di capire che il tuo lavoro è molto basato sulla selezione delle parole, l'essenzialità e la sintesi delle parole, giusto? Cioè la sintesi. Fare una sintesi per poi trovare quella parola, poi magari quella frase, ma quella frase con ogni parola giusta ha il posto giusto. Come lo fai? Come… Allora dunque, diciamo che, caso di prima seduta classica, faccio una sorta di metal detector delle parole che la persona usa. Allora il mio presupposto è che se tu hai un problema e stai guardando, la vita dà il buco di una serratura. Questo è il problema. è una visione troppo ristretta. Se tu vedi il mondo da una serratura, solo dal buco di una serratura, tu usi necessariamente soltanto alcune parole per utilizzarlo. Quindi faccio questa sorta di metal detector e inizio a chiappare le parole che la persona usa mentre descrive se stessa la vita, eccetera. Queste parole mi danno l'indizio di qual è il club psicologico di appartenenza e da lì mi parte il secondo metal detector che è il range di tutte le possibili tentate soluzioni fallimentari che normalmente… Nel pubblico… nel libro ne ho pubblicati una quarantina ma in realtà sono di più, ben di più le tentate soluzioni… Lo dici pure, no? Sì, sì. Credo più di un centinaio di sicuro. Quindi mi parte questa sorta di scanner in cui vedo quali sono… è come se fosse una sorta di massaggio in cui vai a sentire quali sono i punti in cui più facilmente i muscoli si contraggono. Quindi è più facile avere una contrazione qui, una contrazione là. Quindi vado rapidamente nei punti in cui più facilmente i problemi, diciamo, si contraggono e da lì inizio a costruire in simmetria di opposto. Aspetta, fammi capire una cosa. Allora, la persona tu l'ascolti… Sì. Ascolti le parole che usa per descrivere cosa? Il problema? O se stessa o la vita. I primi minuti sono come da, diciamo, usuale lasciare la persona parlare un pochino più a ruota libra. Tra l'altro questo è anche provato scientificamente che funziona bene, no? Hanno visto in delle ricerche scientifiche che se fai parlare troppo, il paziente troppi minuti è totalmente inutile. Ok? Ma se non lo fai parlare perdi un sacco di dettagli, hanno visto che più o meno se tu lo fai parlare a ruota libra entro i 5 minuti hai tutto ciò che… il pacchetto completo di quello che ti deve dire. Quindi io faccio una domanda un po' aperta, come è usuale, lo faccio parlare qualche minuto e poi attacco con le domande. Ok? Ok. E a quel punto seleziono quali sono le tentate soluzioni principali, le possibili soluzioni che hai già messo in atto e inizio a lavorare. Ok. 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 Ok.